ciao a tutti oggi prepareremo il pesto di mandorle il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa ingredienti sono mandorle pelate mandorle con la buccia parmigiano basilico pomodori secchi olio evo sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per dieci secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le mandorle pelate e le mandorle con la buccia ed azionare il bimbi per dieci secondi a velocità 10 aggiungere i pomodori secchi le foglie di basilico il sale il pepe e l'olio ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 7 il pesto è pronto trasferire in contenitori di vetro pesto di mandorle si conserva in frigo per sette giorni ricoperto con un filo d'olio ideale per condire la pasta o farcire crostini grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti